eccoci qui conte mario consigliere trevisano con fabio concato sullo sfondo che canta fiori di maggio dunque treviso vive di notte allora bellissima questa manifestazione suona di marca treviso questa è l'ennesima dimostrazione che treviso una città viva una città di cultura una città di giovani perché oltre a concato ci sono tanti giovani qui dietro di me quindi questa è la parte bella di treviso la parte che noi vogliamo continuare a far crescere ascolta oggi fate un discorso incisivo in consiglio comunale che ha colpito ma cosa succede san liberale una cosa ma sta succedendo lì di che non si capisce molto semplice il comune di treviso ha deciso di aderire un progetto sull'accoglienza diffusa che si chiama spar il problema è che questi profughi che vengono accolti in modo sparso nella nostra città vengono calati dall'altro sulle teste della povera gente senza preavvisi senza spiegazioni a san liberale in via umbia si sono ribellati io credo che abbiano ragione perché i metodi utilizzati da questa amministrazione sono sbagliati e manillo cosa dice manito questa sera non ha replicato come fa molto spesso grazie al conte mario ciao e buona festa ciao ciao